Buona giornata a tutti, anche quest'anno ci troviamo qui tutti assieme con simpatizzanti amici degli alpini coinvolti in questa bellissima manifestazione che è una sagra alpina organizzata dal gruppo Alpini di Clusone. La giornata è iniziata con una camminata organizzata per la prima volta quest'anno organizzata con l'aiuto dagli amici della Polisportiva L'Oratorio di Clusone a cui hanno partecipato parecchie persone, si parla di circa 140 persone soprattutto una camminata rivolta alle famiglie, ai ragazzi, ai bambini una camminata così per il significato è quello di stare, soprattutto coinvolgere le famiglie e cercare di tenere i ragazzi, i giovani, le famiglie vicini a quello che è il gruppo Alpini Niente, all'arrivo di questa camminata si è poi svolta la Santa Messa presso la chiesetta qui dalla Casa dell'Orfano a cui hanno partecipato davvero tante tante persone Niente, anche quest'anno fino ad ora le persone che hanno partecipato sono numerosissime e questo ci inorgoglisce, dal punto di vista noi come gruppo Alpini davvero ci rendete molto orgogliosi perché alla fine significa che le persone apprezzano il lavoro che è stato fatto dal gruppo Alpini Clusone e non solo il gruppo Alpini Clusone, penso che apprezzino anche quello che è la figura dell'alpino a livello di Clusone, a livello di provincia, a livello di regione e di rappresentanza di tutta Italia quindi ci rende davvero orgogliosi e ci aiuta a continuare questo nostro lavoro questo nostro operato che è rivolto soprattutto comunque alla comunità, alla collettività Se dovessi fare un bilancio di questo anno, di questo 2016 fino ad oggi devo dire che il gruppo è molto compatto c'è un gruppo, diciamo il nocciolo duro, che è poi rappresentato dal consiglio che gestisce il gruppo Alpini Clusone a cui devo solo che ringraziare tutti i partecipanti perché grazie a loro riusciamo a fare organizzare le diverse manifestazioni quest'anno abbiamo in particolar modo affrontato un lavoro che ha riguardato la sistemazione della copertura il manto di copertura della chiesetta a San Lucio anche qui con l'aiuto dal gruppo del CAI di Clusone allora in questi anni abbiamo cercato così di collaborare anche con le altre associazioni di Clusone e non questo perché penso che sia il nostro futuro, comunque sia quello lo penso io, ma lo penso il gruppo Alpini Clusone in generale il condividere e comunque lavorare in simbiosi con le altre associazioni della zona sia fondamentale per il proseguimento della nostra attività altra attività importante che ci ha visto dal punto di vista economico soprattutto è il contributo che il gruppo ha dato alla scuola dell'infanzia Clara Maffei di Clusone in futuro abbiamo organizzato, è stata organizzata anche una serata una serata vicino alla sede di Clusone, quindi del gruppo Alpini Clusone quindi nella corte Sant'Anna dove ha visto partecipare un mimo, davvero una persona importante anche dal punto di vista molto conosciuta sia in tutta il nord Italia è una serata che davvero anche quella ha dato a riscossio numerosa partecipazione alla serata stessa quindi davvero anche quella è andata molto bene un'altra giornata che ci proponiamo di fare è a breve, nei primi di settembre la camminata presso la cima dell'Ortigara dove c'è la colonna mozza e dove è stata organizzata per la prima volta la prima radunata nazionale degli Alpini è un pellegrinaggio a cui spero ci sarà parecchia partecipazione e poi comincia a cantare e poi comincia a cantare